One Live. Allora Luca, la prima cosa che devo dire è che è la prima diretta che faccio su centinaia di dirette di questo periodo con qualcuno dalla barca, direttamente dalla barca, sei il primo. Eh, meno male, essere i primi in qualcosa non è mai male, insomma. Grande, grandissimo. Ma e l'altra cosa invece che ci tenevo a dire, mentre c'è questo commento che mi ha fatto morire, Davide Mark Rullo dice, al mio segnale aprite la diretta. E dai, leggici questo commento come lo leggeresti tu. Al mio segnale aprite la diretta. Fa paura, oh, fa paura. Sei fantastico. Allora, volevo cominciare con questa cosa. Per me sono contentissimo di chiacchierare perché, vabbè, io ti conosco, ho 47 anni, quindi ti conosco, quando sono bambino ti conosco, no? Sei cresciuto con la mia voce, dai. Sono cresciuto con la tua voce. La cosa incredibile è questa, che l'altro giorno, quando ti ho chiamato e tu mi hai mandato un messaggio, io ho messo, ho appoggiato il cellulare, tipo stavo facendo il caffè, e metto il play del vocale, ok? E quindi sono lì, tranquillo, in cucina, passa mia moglie e mi dice, ma che voce ha questo qui? Ma chi è? E io per un attimo ho fatto finta, ma così uno, così, che mi ha mandato un messaggio. E poi tua moglie, se non sbaglio, non è italiana, è inglese. Esatto, esatto, questa è la città. E pensa che non l'ho manco impostata, pensa se l'ha impostata. Era la tua voce normale, e lei non è che ti conosce, allora dice, ah vabbè, questa voce, sai, in un qualche modo, proprio così, neutra, perché è pazzesco questo. Ma, a parte questo, Luca, volevo dire che una cosa che mi colpisce è che, sono andato a dare un'occhiata, ho cercato attori doppiati da Luca Ward, ok? Sei pronto? Sì, e c'è una lista infinita, chiaramente. Cioè, c'è Russell Crowe, c'è Samuel L. Jackson, la voce del Corvo, Brandon Lee, che a me era piaciuto tantissimo come fin lì, Keanu Reeves in Matrix, vabbè, e c'è una lista infinita. Però la cosa che mi fa impressione, Luca, è che è facile confondere una voce bella, qualitativa, superprofessionale, però non basta quello, perché ogni attore, io vivo da otto anni in Inghilterra, ogni attore che io vedo ormai, non li vedo più doppiati fin da otto anni, Cioè, ogni attore ha mille sfumature diverse, non è solo la voce, quindi mi chiedevo come fai a cambiare da Russell Crowe a Samuel L. Jackson, sono proprio due pianeti diversi, ecco. Sono due mondi, perché parte che uno è bianco, uno è nero, ma il loro stile proprio cambia in maniera sostanziale, basta pensare a Hugh Grant, per esempio, lo doppio da quattro matrimoni e un funerale, e questa è stata un po' una mia, come si dice, una mia fortuna, se vogliamo, Oppure, perché ho dato ascolto, credo, al più grande doppiatore di tutti i tempi, il più grande attore, che è stato Giuseppe Rinaldi, la voce di Marlon Brando, di Jack Lemmon, di Paul Newman, e lui anche era molto, diciamo, camaleontico, e mi diceva sempre, quando ero ragazzo, dice, calcola che gli attori da doppiare sono tanti, Ma quelli in Italia capaci di fare il doppiaggio ad altissimi livelli saranno sempre pochi. Se tu riuscirai a modificare il tuo stile ogni volta e ti metterai al servizio dell'attore e non al servizio di Luca Ward, allora riuscirai a doppiarne sempre tanti. Io ho seguito quell'insegnamento, quel consiglio, diciamo, dato da un grande, e poi alla fine ha premiato, insomma. Ma la preparazione che devi fare, e poi ti giro, c'è una quantità di domande clamorose che sono partite, peraltro, alcuni a sé, ce ne sono alcuni che mi fanno morire. C'è un ragazzo che ha detto, per te tradirei anche la mia fidanzata, no? C'è di tutto, c'è di tutto. Comunque, però, la cosa che non riesco a capire è come fai a prepararti per Hugh Grant, che magari, ecco, è lì che sbatte gli occhi, è un po' tentennante, e poi passi a Samuel L. Jackson con questi monologhi clamorosi che fa, con un tono totalmente diverso, un approccio totalmente diverso. Cioè, che preparazione fai per entrare nel personaggio? Guarda, allora, io vivo a Roma, una città molto difficile. Il problema principale, prima di entrare in una sala, è dove parcheggiare la macchina. Diciamo che se tu hai parcheggiato la macchina, allora vai a lavorare tranquillo. Se l'hai parcheggiata male, no, perché a Roma ti fanno la multa in un nanosecondo, capito? Adesso, a parte gli scherzi, è semplicemente, guarda, io ho la fortuna di doppiare dei giganti veri, cioè quelli sono attori, attori, attori. È proprio un mestiere il loro, capisci? Io sono un attore improvvisato, per esempio, non ho mai fatto un'accademia, non ho mai fatto teatro. Ho cominciato a tre anni, da bambino, con i grandi sceneggiati e sono cresciuto sui palcoscenici. Quelli invece sono attori. Basta seguirli. Basta capire come sono arrivati a quel personaggio e basta seguire loro. Sono talmente bravi. Samuel Jackson, se tu l'avrai sentito in originale, è un attore di una statura colossale, a livello sonoro, proprio di come fa arrivare le battute, a parte la sua voce, che è proprio classica degli attori di colore, che è inimitabile. Io faccio un compromesso con Samuel Jackson, ovviamente, perché non riuscirei mai a rifare quei suoni, perché sono loro. Pensa che una volta io chiesi a un attore di colore e gli dissi, scusa, ma voi come diavolo fate ad essere così bravi? Voi siete più bravi dei bianchi? Come fate? Lui mi ha guardato con questi occhioni, no? E mi fa, perché noi siamo negri, dobbiamo essere più bravi. Ma ha risposto, basta. Ho capito. Dimmi come funziona quando ti propongono un doppiaggio. Oggi è facile, perché sei tu, e vabbè, è facile. Però, dico, all'inizio, quando sei partito, che cosa è successo? Ti hanno chiamato un giorno e hanno detto ma vuoi fare un casting, vuoi doppiare, fai un salto indietro. No, 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 guarda. Guarda, io ho cominciato da piccolo con i grandi sceneggiati della RAI e facevo proprio l'attore bambino negli sceneggiati. Però all'epoca era molto disdicevole per un ragazzo, un giovane, fare la televisione, perché a scuola i maestri, gli insegnanti, i professori si incazzavano proprio. Non gli andava bene, era una cosa brutta e quindi a un certo punto mio padre mi fece smettere. E proprio perché poi comunque, insomma, io mi divertivo perché per un bambino recitare è veramente un gioco, lo è per noi adulti, figuriamoci per un bimbo, mi misi a fare il doppiaggio. Ma ero veramente una schiappa totale. Cioè, eh sì, non avevo capito. Mentre sul palcoscenico, oppure davanti a una macchina da presa, una telecamera, io facevo il bambino, quindi era molto semplice. Al doppiaggio no. Al doppiaggio non c'è il tuo fisico, non ci sei tu. C'è solo questa voce che devi usare in un modo particolare. Non puoi usarla come lavori in teatro, come quando lavori in teatro o su un set. Devi entrare in quel personaggio lì. E quindi io ci ho messo anni a capire. Anni a capire. Io avevo davanti a me una schiera, una squadra di grandi professionisti della mia età, da Roberto Chevalier, Sandro Acerbo, Massimo Rossi. C'era un esercito che erano straordinari. E loro oltretutto avevano più o meno fatto il mio stesso percorso. Solo che loro l'avevano capito prima. Io invece ci ho messo tanto. Pensa che la sera, invece di andare in discoteca, come tutti i giovani, a rimorchiare le belle ragazze, io passavo le nottate davanti a un registratore a pizze, un Revox, che tu conoscerai senz'altro, te lo ricorderai, a incidere centinaia di migliaia di battute per cercare di capire come andavano dette. E un giorno è capitato per caso, erano anni, ormai avevo già 23-24 anni e mi ero dato ancora poco tempo. Perché tanto è inutile battere il chiodo, se il chiodo non va giù è inutile che lo batti. E un bel giorno andai a fare un piccolo turno dove dovevo dire una battutina. Feci sta battuta, si accesero le luci, mi chiamò il direttore, che era Pino Locchi, la voce di Sean Connery, e mi dice Carlo Luca ti devo mandare a casa. Dico beh certo, sono una bippa, non so capace, è meglio che torno a far camionista. E mi disse no, no, perché sei diventato come i tuoi colleghi che avevi accanto in questa scena, che erano Mario De Angelis e Roberto Chevalier. Pochi giorni dopo mi chiamarono per fare il mio primo protagonista, che era Runaway Train, a 30 secondi dalla fine, dove doppiavo Eric Robbins. Da lì poi non mi sono più fermato. Wow. Si era bloccato il meccanismo. Avevi capito. Sai che mi è venuto in mente che io una volta ti ho visto, tanti anni fa, a Milano in un teatro dove tu, non so, leggevi, leggevi qualche cosa, non mi ricordo quale fosse il contesto, forse era un'iniziativa benefica, una roba del genere, e mi ricorderò sempre che c'era un teatro pieno di gente e tu leggevi un testo, ok? Ma non so, cioè la cosa che mi colpiva è che tu su un testo avevi 50 variazioni diverse di ritmo, di tono, di dove appoggi la voce, di pause, e quindi diciamo ma come si fa a avere questa varietà? Ecco, è una cosa che se tu mi dai un testo da leggere, io leggo una frase, la leggo, poi dico vabbè la leggo un po' più veloce, un po' più piano, un po' più alto, ma non so, basta, finito, tu invece hai questa incredibile varietà, spiegaci come si fa, come si fa a arrivare a questo livello. Ma guarda, io credo, allora, prima di tutto io sono di una generazione che a scuola ancora, insomma all'epoca ci facevano fare etimologia della parola, cioè da dove nasce, da dove viene, qual è stato il suo percorso nel viaggio dei secoli, dei millenni, e quella è una cosa molto importante, conoscere il significato. E poi credo che molto me l'abbia dato il viaggiare tanto, io sono un uomo che grazie a Dio ha avuto la fortuna di viaggiare tantissimo, tutti i soldini, io mi mettevo sempre anche da ragazzo i soldi da parte perché per me il viaggio era fondamentale, conoscere, incontrare, vedere, umanità, no? E poi come mi diceva sempre mio padre, devi essere in grado di incontrare tutti, dal più piccolo al più grande, dal più povero al più ricco, e devi ascoltare tutti perché ogni vita è un film, tu non conosci la persona che incontri, però dietro la sua vita, dietro i suoi occhi c'è un film, c'è una storia da raccontare, e sono quasi tutti film. E forse è stato questo, cioè io ho conosciuto veramente milioni di persone durante i miei viaggi, che sono stati anche lunghi, fatti in qualsiasi modo, fatti con la moto, con la barca, col camper, a piedi, in bicicletta, e forse credo proprio quello, sono un uomo che ha sempre ascoltato tanto, le sfumature della voce per esempio nelle persone, io ero affascinato da questo mezzo meraviglioso che tutti noi abbiamo, non ci facciamo nemmeno caso, noi la mattina ci svegliamo e diciamo buongiorno a nostra moglie, a nostro papà, a un figlio, a un fratello, ma è un miracolo pazzesco, e ognuno di noi non lo dirà nello stesso modo, quel buongiorno uscirà in un modo diverso, se noi li registriamo, sono tutti diversi, con sfumature, colori, sensazioni diverse. Ecco, questa è una cosa che a me mi ha sempre colpito, mi ha sempre affascinato e forse credo sia stato questo, non lo so, non sono sicuro. Ho miliardi di domande in chat e te le giro a caso, in base all'ordine che vedo e a dove riesco a fermare il mouse. La prima è, con solo piccino, una domanda interessante da LinkedIn, ti chiede se, vorrei sapere se Luca costruisce sul parlato originale, quando possibile, ad esempio in inglese, o sempre e comunque sulla traduzione della sceneggiatura. Come funziona questa parte? Allora, no, il doppiaggio, la lavorazione di un film avviene a step, prima viene tradotto. La traduzione è fondamentale. Naturalmente spesso nella traduzione noi dobbiamo cercare di, a volte alcuni termini, alcuni modi di dire li dobbiamo un po' modificare. Per esempio, faccio un esempio, per gli americani, per gli anglosassoni, il venerdì 17 non ha nessun significato, mentre per noi il significato è venerdì 13. Scusa, per loro è venerdì 13, per noi è venerdì 17. Se loro dicono oggi è venerdì 17, cioè se noi diciamo, scusa mi sono incartato, se loro dicono oggi è venerdì 13, per cui non prendo l'aereo, noi dobbiamo cambiare in venerdì 17. Quindi bisogna stare attenti. Poi c'è il dialoghista che arriva poco dopo e costruisce il dialogo di un film, che per esempio, per un film come Pulp Fiction, per esempio, 1994, che era interamente in slang, ecco, fare quel dialogo è stato particolarmente complesso, particolarmente difficile. Per fortuna quel film andò in mano a un genio dei dialoghi, Francesco Veirano, che oltretutto parla molto bene l'inglese e anche lo slang, e quindi noi quando siamo andati in sala siamo stati facilitati, perché per noi è fondamentale il buon dialogo. Se un dialogo è sbagliato, mette in crisi tutti. Anche l'attore più bravo. E come fai, Luca, se ad esempio hai delle parole che sono, l'inglese ad esempio è molto più breve come parole, quindi io faccio una... Keanu Reeves dice una roba, tac, e ha già finito di parlare. Tu invece lo devi riempire perché la parola è più lunga. E quindi come fai a stare asincrono su quello e rispecchiare? Quella è l'abilità, naturalmente, dell'attore che doppia, ma soprattutto del dialoghista. Cioè il dialoghista deve trovare la giusta soluzione. Per trovare magari quella soluzione, a volte ci vogliono per una battuta, ci vogliono ore, o addirittura giorni. Ecco perché oggi io combatto molto su questo meccanismo che si è innescato nel doppiaggio, che sta diventando un po' una catena di montaggio. Il doppiaggio non può essere una catena di montaggio, perché è un lavoro artigianale. E tu non puoi mettere fretta in una lavorazione. Per esempio, prendo sempre questo film perché era difficile da doppiare, Pulp Fiction. Noi l'abbiamo doppiato in due mesi nel 94. Oggi lo stesso film te lo fanno fare in 5 giorni, 6 giorni. Naturalmente il risultato non potrà essere quello. Sto cercando di far capire, soprattutto ai nuovi arrivi della produzione, perché le grandi major americane questo lo sanno. Universal, Warner, Fox, loro lo sanno. Però i nuovi soggetti, Netflix, Amazon, Team Vision, eccetera, sono non sono così preparati, così esperti. E sto cercando di spiegare loro qual è il segreto per vendere più tessere, più abbonamenti. Dargli un buon doppiaggio, perché oggi poi i ragazzi sono scaltri. Un cattivo doppiaggio lo beccano subito. Ci mettono un attimo. Poi il doppiaggio, voglio dire, è fondamentale. Io mi ricordo alcuni film dove magari cambiava il doppiatore, non so, Tom Cruise, e c'è una voce, e dici ma come? Ma non è lui, non è più lui. Che cosa è successo? Ti sballa tutto se ascolti. Completamente. Per cui quello è fondamentale. Ora, il doppiaggio è sicuramente un ibrido, è un compromesso, no? A parte che si doppia in più di 40 paesi nel mondo, non è vero, quando sento dire si doppia solo in Italia, sono bagianate, sono un po' ignoranti in materia. Non parlate se non sapete. Il doppiaggio si fa in tantissimi paesi, noi siamo stati i primi a farlo insieme agli americani, non è che è un'invenzione italiana il doppiaggio. Certamente il doppiaggio, se è sbagliato, è un disastro. Quando si cambia voce, ora, purtroppo a volte capita che qualcuno se ne vada prematuramente, no? Qualche voce importante che prematuramente va via. Però noi in Italia facciamo una scelta diametralmente opposta, cioè non andiamo sull'imitazione per cercare di ridare lo stesso tono, la stessa voce. Questo perché accadde tanti anni fa una storia con mio nonno, che era la voce di Jerry Lewis, anche mio nonno è morto prematuramente, e quando Jerry Lewis seppe che stavano cercando un imitatore per farlo, Jerry Lewis venne in Italia e disse, incontrò appunto le grandi società di doppiaggio, disse no no signori, fermatevi proprio perché questa grande interpretazione è giusto che vada via con Carlo Romano. Il picchiatello in Italia non verrà più. Quindi noi da allora, quando dobbiamo sostituire purtroppo un collega, facciamo una scelta assolutamente, una virata a 360 gradi. Cambiamo decisamente. Ti giro anche questa domanda che mi sembra interessante. Giancarlo Del Sordo ti chiede come si faccia a rimuovere l'accento in un doppiaggio? Perché a volte senti persone che parlo veramente con, hanno un accetto molto marcato e poi in doppiaggio dici mamma mia ma questo è perfetto. Eh certo, io pure parlo romano, sono romanaccio, e poi però vado a leggio e col cavolo che parlo romano. Quello è molto semplice, quando c'hai un mestiere in mano, è il cambio di marcia immediato. Io ho imparato da bambino, a casa mia non si poteva parlare dialetto, mamma e papà non volevano, erano due attori di teatro. Quindi noi a casa parlavamo italiano. Poi per strada no, perché se parlavamo italiano, io so, a De Ostia ci viavano in giro, ci prendevano per i principini e quindi parlavo romano. È molto semplice, bisogna studiare, applicarsi e poi il cambio viene in automatico. Tanto il dialetto ce l'abbiamo dentro, quello non va via. Per cui è come parlare una lingua o un'altra, dici? Assolutamente. Switchi e passi da un'altra. Sì, è come cambiare marcia, no? Prima, seconda, terza, quarta. Ti chiedono in molti in chat, vedo della tua collaborazione con Tedua, che peraltro l'ho intervistato tempo fa Tedua, per chi non conoscesse rapper molto smart. E a me piace, a volte io lo definisco un po' bergonzoniano. È presente Alessandro Bergonzoni che ha queste trovate linguistiche e lui è anche un po' così, chiaramente più giovane nel suo settore. Come è stata? Guarda, mi ha cercato lui, mi ha cercato lui a onor del vero, perché lui è innamorato di un film che io feci tanti anni fa, Sleepers. Io doppiavo Jason Patrick, il giornalista, che poi è quello che racconta questa storia. È una storia vera. E lui è partito da lì. Pensate, quando io ho fatto Sleepers non era neanche nato. No, infatti. Non c'era, quindi Sleepers l'ha visto dopo. E lui si è innamorato del mio modo di parlare fuori campo. Perché dice, non è facile, io sento tanti, lui è uno che vede tanti film, e sento tante cose fatte fuori campo, che però sono dette, raccontate, ma non vissute. Dice, quando ti ho sentito in Sleepers avevo la sensazione che tu quella storia l'avessi vissuta. E quando poi ci siamo incrociati via telefono, quando io ho fatto la registrazione, è venuto fuori che io poi sono un ragazzo nato per la strada. Io sono di Ostia, che è un quartiere di Roma molto grande, forse è il quartiere più grande del mondo, perché siamo più di 400 mila persone. E io sono cresciuto per strada, io vivevo per strada dalla mattina alla sera. Quindi certe storie, non dico che mi appartenevano, ma più o meno sapevo, quando io ho fatto Sleepers, mi ci rivedevo un po' in quello che era stata la mia giovinezza. E anche Tedua ha vissuto così, la sua crescita da quando era bambino, adolescente, insomma è stata una crescita difficile, tosta, è uno che non si è arreso. Per cui è stata bella questa collaborazione, a me mi è piaciuta tantissimo. E poi credo che la commistione fra la vecchia guardia e la nuova guardia sia vincente. Assolutamente. Peraltro, Luca, a me, non so perché, io sono un grande amante dei film che iniziano con la voce fuori campo. Cioè, se il film inizia con la voce fuori campo, non so, il giocatore, quello lì con Matt Damon, Edward Norton, che parte con la voce fuori campo, già quello a me mi mette bene, non lo so, capito? Se invece un film parte senza la voce fuori campo, di cosa lo so, cioè la voce fuori campo ti può creare proprio tutta l'atmosfera o uccidertela, chiaramente. Assolutamente. Per cui quello fa una grande differenza. No, no, sono d'accordo. Sono d'accordo. Se ci fai caso, tutti i film che cominciano con la voce fuori campo, che è un metodo che usano molti registi, qualche italiano anche c'è che lo usa, è un modo per farti entrare da subito dentro il film. Tu c'entri subito. Però ovviamente bisogna saper coinvolgere lo spettatore, lo devi far entrare. Infatti per noi, che lavoriamo nel doppiaggio, la voce fuori campo è quella cosa che ci fa un pochino più paura. Perché sai, conto se tu hai l'attore lì, lo segui, è bravo, hai fatto. La voce fuori campo no. La devi creare tu. Ti devi creare un mondo tuo. E non tutti lo sanno fare. Di recente, ad esempio, ho visto Narcos, che non avevo visto. Parte sempre con sta voce fuori campo, le immagini, ti racconta e tu entri già, capito? Ti porta dentro. Però ecco, il fatto è quello. È come alcuni attori quando li vedi che entrano e tu vedi il prima di quella persona lì. Cioè, è subito il personaggio. Vedi, non so, De Niro e dici, cazzo, ma è proprio quel personaggio lì. Non è che lo sta recitando. E allora per le voci è la stessa cosa. Io sento la tua voce e mi dai la sensazione che c'è tutto un passato dietro e sei arrivato lì, no? E c'è tutto... Non so perché, ecco. Non lo so capire come riesci a creare questa magia. È il pensiero. Cioè, tu devi entrare dentro quel ruolo lì. Ti ci devi calare. Ora, alcune storie, per fortuna, magari le abbiamo vissute anche noi, no? E quindi è più facile. Altre no. Però tu devi entrare dentro quella storia lì. E soprattutto, quando tu dici una... fai una scena, reciti una scena, delle battute, ci deve essere il retropensiero. Quello che non c'è oggi, per esempio, no? Perché vanno troppo veloci, vanno alla velocità della luce. Se tu oggi entri in uno studio di doppiaggio, ti prende un colpo. Dici, no, questi non sono esseri umani, queste sono macchine. E cosa manca? Manca il retropensiero dietro la battuta. E questo cosa comporta? Che tu non fai entrare lo spettatore in quella storia. Non ce la fai. Se invece c'è il retropensiero, tu lo prendi e lo porti dentro il film. E lui quel film se lo ricorderà. Questo era stato anche un vecchio insegnamento dei grandi di ieri, uno fra tutti Ferruccio Amendola, che non era certo dotato di una grande voce sensuale. Anzi, il contrario. Ma qual è stato il suo grande segreto? Il retropensiero. Cioè, come diceva le battute. Sembrava reale. Sembrava reale. Era reale. Cioè, la scena di Rocky, quando gli muore l'allenatore, il vecchiettino, tu non capisci una parola di quello che dice Ferruccio. Non capisci una parola. Che come Steve Wester Stallone. Anche Steve Wester Stallone si capisce la sega quando parla. No, ma in quella scena tu hai la sensazione vera, cioè tuo spettatore, che hai perso un caro. Certo. E quello è vincente. Quello è assolutamente vincente. Ed è quello che manca oggi. Perché oggi i doppiatori sono tutti tecnicamente molto forti. Molto. Ma manca la parte interpretativa, che è la parte fondamentale. Per restare immortali, come diceva qualcuno, se vuoi diventare immortale, devi conquistare la folla. Se non conquisti la folla, non diventi immortale. Io, il mio obiettivo era questo. Entrare nell'immaginario degli italiani. E qualcosina, insomma, ci sono riuscito con qualcosa. Luca Infante su Facebook ti chiede che cosa pensano gli attori originali della loro voce doppiata. Altri ti chiedono, ovviamente, sono cose che ti hanno chiesto miliardi di volte, però, Serena, ti chiede se hai conosciuto gli attori ai quali hai dato voce. Come funziona questo rapporto? Ma guarda, è chiaro. Loro cosa ti devono dire? Ti dicono che sei eccezionale, che sei un mago, che sei un maestro, che sei un gigante, che in pochi secondi riesci a fare scene che loro ci hanno messo giorni. Però vi posso assicurare, a me è capitato, con Elisa di Rivombrosa, tanti anni fa, di essere a Parigi, per girare un film su Amedeo Modigliani, ero in albergo e trasmettevano Elisa di Rivombrosa. Quella serie è stata venduta in più di 160 paesi. E ho detto, a cazzo, bello, c'è Elisa di Rivombrosa, sentiamo. Fatalità era una scena dove c'ero io. E mi sono sentito doppiato. Mi è preso un colpo. Sono rimasto malissimo. Mi è preso un accidente. Ho chiamato il produttore in Italia. Ho fatto un casino. Ho fatto un casino. Da sì, non ero abituato. Non era mai capitato. Sai, le produzioni italiane, ma quando mai le vedono all'estero? Ma chi le vede? Cioè, ma di che parliamo? Non siamo competitivi. Elisa di Rivombrosa è stata, della prima serie parlo, è stato un caso gigantesco, un po' come la piovra, se vogliamo. Però la piovra è andata in lingua italiana con i sottotitoli. A noi ci hanno doppiato, in molti paesi. E poi invece mi sono reso conto, il produttore Guido De Angelis mi disse Luca Manguarretta ha doppiato uno dei più grandi attori francesi, che oltretutto è la voce di 007. Io all'epoca doppiavo Brosnan. E quando sono andato a vedere chi mi aveva doppiato ho detto, vabbè cazzo è vero, questo è un gigante. Sono io che non sono abituato. Quindi sono sicuro che quando, che ne so, Hugh Grant per la prima volta si è sentito doppiato da me, sarà svenuto dentro a casa sua. Poi si è abituato. Poi, ecco, Russell Crowe, per esempio, dopo un episodio che c'è stato su Noa, dove io non sono riuscito a doppiarlo, perché hanno combinato un po' di guai, e lui si è fatto girare scatole, ha detto no, queste cose non devono succedere. La mia voce in Italia, l'ho scelta io, di Ward, in Italia si va col doppiaggio e deve essere lui a doppiarmi. Anche perché abbiamo uno stile molto vicino, molto simile. Io non tolgo nulla e non aggiungo nulla a Russell, proprio è tutto uguale. Se lo senti in originale è praticamente uguale. Questa è l'altra cosa, Luca, che quando mi sono trasferito qua nel Regno Unito e sono passato da vedere film doppiati a film sempre in lingua inglese, la mia netta sensazione su alcuni attori è stata, mamma mia che voce merdosa che c'ha questo, cioè ero abituato alla tua voce o alla voce dei doppiatori italiani che sono, cioè siete strepitosi, cioè il doppiaggio italiano è strepitoso, e sentivo in lingua originale e dicevo, mamma mia, ma questo, cioè ma che voce brutta c'ha? E quindi facevo molta fatica all'inizio. Oggi è diverso perché chiaramente conosci quell'attore in lingua originale, allora farei fatica a vederlo doppiato, però devo dire anche quando poi li vedo doppiati, ecco Russell Crowe, lo sento doppiato, dico ah no, ok, cioè è lui, è sempre lui, mi ritrovo, non è una cosa che... Sì, 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 è quella sensazione lì uguale. Però molti attori, devo dire, hanno una voce peggiore nell'originale rispetto al doppiatore italiano. Assolutamente sì. Pensa che prima degli anni 2000 i film americani erano in presa diretta, no? Da dopo gli anni 2000, cioè dopo l'avvento dei DVD, siccome alcuni, vi faccio un esempio per farvi capire, il gladiatore che conoscono tutti, nei paesi anglofoni il gladiatore loro non lo sentono in lingua originale, perché per loro un soldato di Roma che parla inglese non si può sentire. Quindi come lo vedono? Con i sottotitoli, ma in italiano. Ok? È successo in tanti casi, non era il caso del gladiatore, ad esempio è successo con Tom Cruise su Ice White Shaft, lui ha una voce, se lo senti, cioè al posto suo io mi sarei ritirato, cioè proprio no. E cosa è successo? Allora, gli americani non vogliono essere secondi a nessuno e hanno deciso da allora di doppiare i loro film. Ora, voi quello che sentite oggi di una colonna sonora, di un film americano, non c'è niente di set, ma è tutto fatto in sala di doppiaggio. Questo gli consente anche di migliorare la qualità vocale dei loro attori. No, aspetta, aspetta, questa non me l'aspettavo. Cioè, tu dici che non è la batt... quando senti Tom Cruise in Mission Impossible, non è la sua voce quella di quel momento lì, ma è fatta in doppiaggio? Da lui in doppiaggio? Sì, loro vanno in doppiaggio, non è il caso di tutti, però in molti vengono un po' picciati, magari caricano un po' di basse, oppure le voci possono essere modificate oggi con i sistemi che ci sono. Del resto erano proprio gli americani stessi che dicevano come mai Tom Cruise in originale c'è una voce terribile e poi lo senti doppiato in italiano è un figo della madonna. Perché poi Tom Cruise è di una bellezza sconcertante, ancora adesso che è pure grande, vedi questo fico con questo sorriso pazzesco, poi parla come Paperino, te casca tutto, cioè, no? E quindi li senti doppiati, ecco Russell Crowe per esempio che ha una bellissima voce, non ne ha bisogno, lui va a doppiarsi, si doppia, ma non toccano la sua voce, la sua voce rimane quella, come Samuel Jackson o Hugh Grant o Keanu Reeves, anche lui ha una bella voce, cioè loro rimangono così. Però quelli che ce l'hanno, un po' nasale, un po', eh, allora gliela sistemano un pochino. Capito. Ti chiedono in chat se hai mai incontrato Keanu Reeves, non so perché, Keanu ha scatenato le fantasie. Eh beh, ma è un gigante quell'uomo. No, non l'ho incontrato, non sono riuscito ad incontrarlo per vari motivi, a volte è capitato, quando lui era a Roma io ero in Siria, quindi ero da un'altra parte, ma è stato lui a scegliersi la voce nell'Abbocato del Diavolo, perché prima di allora era doppiato da altri due miei colleghi, bravi tra l'altro, poi non so perché lui volle cambiare, però conosco molto bene la sua vita, quello che ha avuto, quello che ha passato, è un ragazzo pazzesco, pensate che lui vive in un appartamento di 50 metri quadri a New York e tutto quello che guadagna lo dà per la ricerca, perché lui ha perso la moglie, la figlia e ha una sorella malata di un brutto male, di una brutta malattia e sostiene, come me d'altronde, siamo molto simili in questo, che la ricerca sia il vero futuro dell'umanità e tutto quello che guadagna va là, ha avuto un'infanzia terribile, non ha avuto genitori, è passato da una famiglia all'altra, adottato da una parte, adottato dall'altra ed è venuto fuori un uomo così straordinario, quindi non vuol dire, anche se hai vissuto delle cose tragiche nella tua adolescenza, se il DNA è forte, c'è dentro roba buona, poi viene fuori roba buona, spero un giorno di incontrarlo, anche perché io dovevo fare in John Wick, nel primo John Wick, no nel secondo, la parte del cattivo, ma come attore, non come doppiatore, mi avevano scelto il regista e io gli ho dovuto dire, dico onestamente, dico guardi non posso accettare, e perché? Dico perché io sono la voce di Chiano Rizzi in Italia, dice va bene, mi ha detto va bene, ma qual è il problema? Tu ti fai il tuo ruolo, poi doppi Chiano Rizzi e a te ti doppia un tuo collega, dico guarda che nessun mio collega verrebbe a doppiarmi, e poi si creerebbe un casino, e devo dire che è rimasto molto colpito da questa cosa e mi ha detto sei stato talmente onesto che il prossimo film che farò lo faremo insieme. Ma dai, grande, grande. E quindi avevo la possibilità di lavorarci, ma per un fatto proprio di rispetto, anche per lui, insomma, gli avrei fatto una puttanata. Massimiliano, Ventriglia dice il tuo doppiaggio in Pulp Fiction di Samuel L. Jackson è il tuo capolavoro. Quando tu l'hai registrato, hai pensato subito questo qua spacca, o in quel momento sembrava, come dire, normale, un altro giorno a lavoro? È un film, è un film come tanti. Noi quando siamo in doppiaggio non abbiamo né il tempo, né la fantasia di andare ad analizzare se il film diventerà un successo, un caldo oppure no. Lo fai cercando di farlo al meglio. Certamente, io avevo 34 anni quando ho doppiato quel film, ero un ragazzino. Samuel L. Jackson ha, credo, dieci anni più di me, è un colosso d'uomo. E io quando sono entrato in sala quel giorno, il direttore era Pino Colizzi, per intenderci la voce di Michael Douglas, a me mi è preso un accidente. Primo perché ho visto la bravura di questo colosso. E poi gli ho detto, ma io come cazzaro la faccio a doppiare questo qua? Dico, io sono un ragazzetto di Ostia, mi no. Questo viene dal Bronx, non lo so da dove viene. E lui mi disse, non ti preoccupare, ti conosco abbastanza bene e tu farai un ottimo lavoro. Tutti i due monologhi, Ezechiele 25-17, il cammino dell'uomo timorato, quella roba là, sono stati incisi tutti e due di notte, perché all'epoca io facevo contemporaneamente l'Avvocato del Diavolo, Pulp Fiction, Golden Eye e il Corvo. Non sapevo a chi dare i resti. Andai di notte e quello ha un solo take. È buona la prima in tutti e due i casi. Non c'è una seconda. Sì, ma è stato culo, scusate se uso questo termine arcaico, ma è stata fortuna perché era difficile farlo. Però io a un certo punto l'ho sentito, l'ho voluto sentire una seconda volta e gli ho detto, dai incidi che è tardi, erano le due di notte, riconcidi, che ne so, magari viene bene. E infatti è venuta bene e così l'hanno tenuta. Non esiste un secondo take. Qual è la preparazione, ti chiedono? Silvano Latosa ti chiede. Che preparazione vocale si fa prima di doppiare in sala? Gargarismi con acqua calda e miele? Ma anche no, ma anche no, non c'è nemmeno il tempo di fare questo, figurati. Noi arriviamo in sala, vagamente sappiamo di cosa parla il film, anzi se io non lo so è anche meglio, perché la cosa più noiosa di quando si vado a doppiare è quando il direttore di doppiaggio ti racconta il film. Non te ne frega una mazza, non lo vuoi sapere. A volte è meglio non saperlo. Sì, no, no, anche perché ammetti che tu fai uno che alla fine si scopre che è l'assassino. È meglio non saperlo. Lo so alla fine e via. non si prepara niente, non c'è nulla che si prepara, non si fanno gargarismi. La maggior parte dei doppiatori sono fumatori, lo so non dovrei dirlo, però è così, perché ti difendono, io non fumo più, vabbè, però ti difendono le corde vocali, te le robustiscono, come si dice, il fumo, le spezzisce. Mi ricordo quando ero ragazzino c'era Pino Locchi, la voce di Sean Connery che fumava le Linda. Le Linda sono delle sigarette che fanno letteralmente schifo. E io siccome una volta li ho visti al pacchetto di Linda, per un periodo ho fumato queste sigarette terrificanti, sperando che mi venisse la sua voce. Il suo segreto erano le Linda. Le sigarette. Esatto, le sigarette. Dici Luca che differenza c'è tra fare un doppiaggio, ad esempio, di un film o doppiare uno spot, cioè mettere la voce all'interno di uno spot dove magari appunto c'è solo un'automobile che va e tu devi farla sembrare, capito, Angelina Jolie. Guarda, il film tu hai due ore per azzeccare un po' di battute. Qualcuna la puoi sbagliare. Lo spot hai una frase e non puoi sbagliare. In pubblicità, fino a quando ci lasciano fare, riusciamo a fare delle cose straordinarie, ma veramente straordinarie, che rimangono lì. Oggi la pubblicità non è più quella di un tempo, non resta. I spot sono quasi tutti uguali, si somigliano tutti, non c'è più lo spot che ti rimane. Il tempo gli spot rimanevano nella memoria a lungo perché erano studiati. Se ci lasciano fare, noi siamo veramente capaci di venderti qualsiasi cosa, anche l'automobile che non c'è, te la compri. Il problema è quando non ci lasciano fare, quando i creativi ti vogliono spiegare come tu devi dire una battuta. Quella è la cosa peggiore perché ti portano fuori strada. A me è successo in diverse pubblicità, oggi però non lo permetto più. Oggi se il creativo mi porta fuori strada e dico, guarda, chiama un altro, non c'è problema, arrivederci, grazie. Ok. Come vengono scelti i doppiatori, ti chiede Giorgio Negri, al di là della scuola di recitazione, dice, come vengono scelti i doppiatori? Se dovessi portarci dentro a un casting, non so, c'è gli Avengers e gli Avengers devono prendere i doppiatori per gli attori attrici italiani. Come funziona quel percorso lì? Chi è che decide? Ci sono delle prove? Come funziona? Ma guarda, è tutto molto nebuloso a volte. Ad esempio negli Avengers, anche lì c'è Samuel Jackson, io negli Avengers non lo doppio Samuel Jackson, però non chiedetemi perché, perché non lo so. Non lo so proprio, non ne so nulla di questo. Tanto che Tarantino, dopo Django, fece Deadpool 8, mandò una mail alla distribuzione italiana, che era alla Leone Film, dicendo proprio di assicurarsi per Samuel Jackson la voce mia, perché lui voleva la mia. Gli Avengers, per esempio, tu hai preso gli Avengers, ma in realtà di solito vengono fatti dei provini, prove voci, che vanno poi in America e in America scelgono. Loro scelgono in base all'età, al curriculum, a quanto teatro c'è dentro. È importante che ci sia il teatro. Molti doppiatori non ce l'hanno il teatro alle spalle. Ah ok, come esperienza, vera esperienza teatrale. Sì, però lo mettono nel curriculum, ci mettono delle cazzate pazzesche, quindi gli americani credono a quello che uno dice, insomma, sono fatti così. E poi si fa il cast. Diciamo che se tutto avviene in maniera chiara, pulita, senza sotterfuggi, sono gli americani che scelgono. Altrimenti vengono fatte delle scelte a volte o per motivi economici, perché una voce magari costa troppo, o per motivi di simpatia o antipatie personali verso un collega piuttosto che umano. Dimmi un'altra curiosità che vedo ricorrente. Cerco di riassumerti, insomma, le domande principali. Ah no, Mariangela, Mariangela ti chiede, è troppo tardi iniziare con il doppiaggio a 40 anni? No. Per fare il nostro mestiere, dal doppiaggio al cinema, alla televisione, al teatro, non c'è età. Perché noi abbiamo bisogno di tutte le età. C'è il giovane, il bambino, il giovane, l'adolescente, il ragazzo, l'uomo, l'uomo più grande, l'anziano. No, non c'è età. C'è spazio. Per tutti. Molti miei colleghi, anche straordinari, tra l'altro, facevano ben altro fino a 45-50 anni. Ok. Per cui non c'è età. Torno al tema del casting. Tu, come altri doppi attori e doppiatrici, sei in grado di fare tante variazioni di una voce, la battuta da poi leggere in mille modi diverse, eccetera, come fa uno a valutare, no? Cioè, se tu mandi una prova, dici ok, questa è la mia prova, però tu l'avresti potuto fare anche in mille altri modi. Quindi dall'altro lato uno sente quella singola prova e dice non mi piace, però magari se sente la versione 2, invece è perfetta. come fai? Qual è il bilanciamento su questo? Guarda, il bilanciamento è cercare di fare quello che hanno fatto loro. Anche se magari in quel momento ci suona, ci può suonare strano, ci può suonare non proprio consono all'orecchio nostro italiano. Però la cosa migliore è seguire loro. Se segui loro, diciamo che il 90% dei casi riesci a prendere il film. Se fai una cosa tua, no. Bene. Ti chiede Francesco Cannarsa quale stile di doppiaggio ti piace? E anche io ti aggiungerei quale non ti piace, che dici, mi che palle, lo faccio però, questo proprio non mi piace per niente. Ma guarda, non c'è in realtà un doppiaggio che piaccia o meno. I doppiaggi cambiano da film a film. Cos'è che fa la differenza? La differenza la fa il cast che viene messo su, che deve essere tutto livellato, e il direttore di doppiaggio, che oggi invece è poco valorizzato. Noi della vecchia guardia, diciamo, abbiamo avuto la possibilità di diventare abbastanza coerenti poi con quello che possiamo fare, proprio perché abbiamo avuto dei grandi direttori di doppiaggio, da Renato Izzo a Pino Colizzi a tanti, Pino Locchi, Rinaldi, Amendola, te ne posso citare, Diecimila, Piazza, Barbetti, la voce di Paul Newman, scusa, di Robert Redford. Diciamo che la differenza sostanziale la fanno loro, cioè la fanno i direttori. Se tu hai un bravo direttore che ti sa dare le giuste dritte, cioè il bravo direttore non ti dice come la devi dire, non te lo dirà mai, non ti dice dilla così e te la fa sentire. No, ti fa arrivare a come la devi dire. Capito? Oggi purtroppo siamo nell'era in cui una sigaretta e una direzione non si è rifiuta a nessuno, capito? Quindi non va bene. Ecco, quella anche è un'altra strada che hanno intrapreso che non va bene assolutamente. Ti chiedono, sempre Luca ti chiede, è difficile doppiare un videogioco o un cartone animato. Vediamo, io vivo di cartoni animati con i bambini, vedo miliardi e le voci sono fondamentali ovviamente anche lì. Allora, il videogioco, il cartone animato è difficile perché ci vogliono i fantasisti. Bisogna essere un po' fantasisti, bisogna sempre pensare che ci rivolgiamo a dei bambini. Sono difficili, però ci si arriva bene, anche perché oggi i cartoni sono straordinari. Il videogioco no. Il videogioco è un problema grosso, enorme, contro il quale io combatto ormai da anni. Noi non vediamo nulla. Noi non vediamo nulla. Siamo su uno schermo nero. Non c'è nulla. Noi sentiamo soltanto una traccia audio dell'attore che l'ha fatto in America. Eh ma c'è una bella differenza tra la traccia audio e vederlo. Perché tu non sai se sta su un elicottero, se è seduto, se sta correndo. Infatti il mio figlio, che è un grande giocatore di PlayStation, uno anche molto forte, spesso gioca con dei videogiochi che ho fatto io. E magari mi capita di sentirmi, no? Allora mi affaccio un attimo e gli do fammi un po' vedere che scena è. E dico ma cavolo, vedi, se l'avessi visto, cioè veniva un'altra cosa, capito? Veniva molto meglio. E vediamo se ce la facciamo a fargli cambiare strada a questi. Ma poi figurati, ma chi glielo ruba il videogioco? Non glielo ruba nessuno. E' impossibile. Magari dateci una copia in bianco e nero. Certo, certo. Però fateci vedere quello che fa. Senza contesto è impossibile. Come fai a doppiare? No, è difficilissimo. No, te lo puoi immaginare. Perché lì c'è scritto, no? Sta andando, che ne so, a piedi al bar. Ho capito. Ma dov'è? In una strada buia, vuota, c'è gente, c'è traffico, c'è rumore. Come sta camminando? Cammina veloce, cammina lento, cambia tutto, eh? Cambia il mondo. Noi dobbiamo farle vivere, le voci, insieme a quei corpi che si muovono. E il videogioco è proprio complicato. Così è... Io sì, li faccio ogni tanto, i videogiochi, però è veramente... è demoralizzante. Dico, ma fatemelo vedere, santa Madonna. Lo sai che ti fanno vedere? Te mandano un fermo immagine. Te mandano un fermo immagine. Ecco, fai conto così. Ma di che stiamo a parlare, no? ma no. Lucio Lodato da Facebook ti chiede se hai mai rifiutato un ruolo perché non ti piaceva il personaggio? No. Ho rifiutato dei ruoli perché erano di altri miei colleghi. Le ali della libertà, io dovevo doppiare Robbins e quando sono arrivato in sala ho visto l'attore, era di un mio collega, però loro non lo volevano, volevano un'altra voce e sono andato via. E non l'ho fatto. Ok. Infatti poi chiamarono il collega che lo faceva. E anche un'altra volta feci la stessa cosa, sempre per un film, era Daniel Craig. Volevano che lo doppiassi io e io dissi no a un doppiatore perché noi non lo chiameremo mai. Dico, ho capito, peggio per voi. Arrivederci. Simone Limonta dice, se oggi voglio iniziare a fare doppiaggio Luca, che cosa devo fare? Spesso ci sono tutte queste scuole di doppiaggio. Quali sono i consigli che puoi dare a degli sbarbati o gente che lo vuole fare? Ma certo, ma è giusto, per carità. Un mestiere bellissimo dove oltretutto, questo lo dico a titolo informativo, che vale molto soprattutto per il pubblico femminile, non c'è compromesso al doppiaggio. Non c'è proprio. O lo sai fare o non lo sai fare. Il compromesso non esiste, non può esistere. Ecco perché abbiamo tante donne. Noi siamo nel mondo del doppiaggio, siamo 80% donne e 20% uomini. Perché vengono tutte a rifugiarsi lì, poverine. Perché per fare la tv e il cinema devi per forza... andare a fare dei compromessi. Lì proprio non c'è. Però è fondamentale una cosa. Bisogna partire dal teatro. Il teatro forma attori. Per diventare dei grandi anche nel doppiaggio bisogna essere attori. Se non sei attore non ce la farai mai a diventare così grande. Non ce la farai mai a diventare così importante, così indispensabile soprattutto. Che è la cosa più comoda, no? Se vogliamo ti metti un po', come si dice, un po' tranquillo, tra virgolette, ovviamente. Il teatro è importantissimo. Tanto in Italia in ogni paesino c'è un teatro e in ogni anche piccolo paese c'è una scuola di teatro. Quindi lo puoi fare tranquillamente. Poi dopo ti specializzi nella tecnica, perché quella è una tecnica del doppiaggio. Ma si impara facilmente. Quando hai già la recitazione in tasca è un attimo a doppiare. Molto facile. Ok. Non sono così convinto che sia molto facile, però se lo dici tu ci credo. Umberto Sardanelli ti chiede, avere la voce del doppiatore ti ha aiutato con le donne? Rispondo io sì. Sicuro? Matematico? Cioè su questo non ho il minimo dubbio qualunque cosa tu risponda, Luca. Cioè immagina... Ma no, guarda. Cioè ai tempi quando si chiamava, no? Che uno faceva la telefonata a freddo. Cioè se chiamavi tu non vale. Ma guarda no. Io in realtà faccio questo lavoro ma non... cioè lo faccio senza pensarci troppo. Nel momento in cui lo faccio mi rendo conto, che ne so, devo fare, leggere una poesia. Lo so che io susciterò delle emozioni particolari a chiunque l'ascolterà. Questo lo so, è inutile nascondersi. Sai io sono un molto contrario a quegli attori che dicono ma sì l'ha detto lei che l'ho fatta bene. Sono tutte bagianate perché poi se tu sei uno capace è giusto che tu lo sappia. Perché poi ti aiuta ad essere ancora più incisivo in quello che fai. Ho sempre sostenuto questo. Quindi io sono sicuro quando lavoro dell'impatto che può avere la mia interpretazione, che sia una poesia, che sia un doppiaggio. Lo so. Lo so perché sono consapevole. Però nel momento in cui ho finito il mio doppiaggio, la mia lettura di poesia, ritorno Luca De Ostia e qui lì non ci penso più alla voce. Cioè quando vado al bar a ordinare, oh me dai un caffè, me lo fai stretto. Non ci penso, capito? Una volta provai a leggere una poesia a mia moglie, una sera che ero particolarmente ispirato, ho detto ti voglio leggere una poesia di Prever, eccetera. Manco ho cominciato, ho detto 4-5 righe fa, ma che ci stai approvare? Dico no, non ci stai approvare. Se volevo leggere una poesia me lo smetto subito. Per cui ho smesso. Luca, ha scatenato grande dibattito in chat la tua frase che nel cinema e in tv le donne devono fare compromessi. Se puoi elaborare su questo. c'è poco da fare. Lo scandalo Weinstein è tuttora è tuttora attivo. Ma è una cosa assolutamente normale. Non ci trovo niente di... a me tutto sto casino che è stato messo su da gente che poi oltretutto l'ha fatto. Alla non farlo. Cioè nel momento in cui un megaproduttore ti invita in una camera d'albergo a mezzanotte ma che pensi che ti legga la Divina Commedia? E poi se ci vai che vuoi? Mia moglie gli è successo con un regista importante, non posso fare il nome perché lei ha detto io non lo farò mai, l'ha sbattuto fuori da una camera mia moglie alta un metro e ottantadue e quando si incazza fa paura a me. Cioè voglio dire boh io l'ho trovata una cosa assolutamente fuori luogo. Tiri fuori sta roba quando ormai sei diventata qualcuno. Ma è meglio non dirlo. Però diciamo lui vabbè ha messo... era un sistema predatorio. Ma non è solo Weinstein. Guarda non è solo Weinstein. No, no. Non è solo Weinstein. Assolutamente. Poi per carità sì c'è anche... mica sono tutte così eh. Ci mancherebbe altro. Se fossero tutte così sarebbe un disastro proprio totale, totale. Però molte. Lo so che le mie colleghe si incazzano ma non me ne frega niente. Passo oltre. Non è... vabbè insomma ti danno bravo look finalmente qualcuno dice la verità su questa cosa di Weinstein e tanti altri. Insomma diciamo c'è stato ovviamente la sua responsabilità e ovviamente persone che ci hanno marciato. Quindi questo fa parte di quello scandalo lì. Però probabilmente usciranno altri scandali. È assurdo che 2020 ancora uno debba fare compromessi per lavorare. Dove proprio essere meritocratico e stop. È fuori dal mondo guarda. È fuori dal mondo. Perché tu per chiarità ci sta... cioè magari possono anche nascere degli amori e nascere delle famiglie, nascere dei figli. Perché no? Sì. Cioè può succedere che un'attrice si innamori di un regista. Perché no? O di un produttore. Assolutamente sì. Cioè ci sta. Può succedere. Poi ti devo dire la verità. Io sono anche fermamente convinto che molte dichiarazioni che ci sono state di molte attrici, molte non sono neanche vere. Assolutamente. No, ne ho sentite su Tornatore. Ma che stiamo scherzando? Tornatore è un signore. Quell'altro ragazzo, Brizzi, quell'altro regista. Ma di che? Ma non scherziamo. Non diciamo stronzate. Poi certo c'è quello che se ne approfitta. E quello è un maiale. Basta. Certo. Quello è un maiale. Eh punto. Se poi tu vai col maiale non ti devi lamentare. Il maiale lo devi cacciare via a pedate. Come ha fatto mia figlia tanti anni fa. Solo mia figlia ha una che mena, quindi non ha avuto problemi. Gli ha dato un destro e se n'è andata. Ha la sua capacità di difendersi. Sì, sì, sì. Dimmi Luca, oggi come la tua giornata tipo qual è? Che come a parte diciamo andare in barca, viaggiare, diciamo la tua giornata lavorativa tipo qual è? Allora comincia sempre con la radio. Io da 15 anni sono la voce di Radio Italia solo musica italiana. Ne sono orgogliosissimo. È una grande radio fatta di grandi professionisti, di grande gente. Io comincio sempre con loro. La mattina è dedicata alla radio. Quindi faccio le incisioni di tutti gli spot, di tutti gli annunci di concerti. Vabbè, adesso non ci sono purtroppo, ma torneranno tutti i claim. Poi se devo andare in doppiaggio vado in doppiaggio. Adesso i teatri sono fermi, quindi noi non possiamo riprendere a lavorare. Solitamente, ecco, in questo periodo dove si lavora un pochino meno, mi dedico di più alla mia famiglia, ai miei figli. Calcola che io in attività circa sei, sette mesi l'anno non sono a casa. E questo, insomma, crea non pochi problemi, soprattutto con i figli in età adolescenziale. Tu hai dei figli, quindi puoi capirmi bene. Sto sfruttando questo periodo per riappropriarmi, insomma, della mia famiglia. Super. Luca, senti, è stato super, super, super interessante e quindi devo dire che mille spunti. Non so perché il mondo del doppiaggio lo trovo sempre così affascinante e anche in chat, devo dire, sono tutti affascinati. Su questa vicenda di Weinstein, lo ripeto perché poi sai, in chat ho sempre gente che poi è pronta a prendere qualunque parola per carare un caso. Ripeto, siamo tutti d'accordo sul fatto che un sistema di ricatto di ragazze dove per lavorare devi trombare con il produttore, su questo nessuno è d'accordo, lo condanniamo tutti e penso appunto il tema di Luca fosse, mettiamo in evidenza anche la responsabilità però di chi magari ha approfittato di un sistema per crearsi una carriera. Ma quello sì, assolutamente, però non credo che ti puntino una pistola, capito? Sei tu che decidi. Sei tu che decidi se andare o no. Sai quante ne ho avute io? Quante persone che sono venute con il loro fascino, la loro bellezza, quante donne. Solo che con me non ci sono mai. Ho sempre detto, devi essere capace. A me non mi interessa se sei figa o meno. Devi essere capace. Dimostrami quello che sai fare a leggio. Poi vediamo. Luca, ti chiedono di lasciarci con una frase. Scegli tu la frase che preferisci. La frase che preferisco. Che palle. Ogni volta che uno ti chiede Luca, dimmi la frase. No, no. La frase che vorrei, soprattutto in questo periodo che stiamo uscendo da questo disastro che ci è capitato, inimmaginabile, sembra quasi di vivere un film. Io ho pensato addirittura, dico chissà chi cavolo mi doppierà in questo film, no? Questo virus che è arrivato che ci ha un po' piegato le gambe. E dico, forse è una frase del Corvo che è adatta. Non può piovere per sempre. Quindi speriamo che prima o poi il sole torni a splendere per tutti quanti noi e ci possiamo riappropriare delle nostre vite, della nostra quotidianità e di andare avanti. Super. Luca, grazie mille e bocca al lupo per tutti. Grazie a te. Grazie.